Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova recensione e oggi vediamo il Samsung Galaxy S20 Ultra un telefono che di fatto segna un nuovo standard per Samsung che propone un modello superiore al modello Plus su S10 e S20 normalmente si fermavano al Plus anche il Galaxy Note, in questo caso invece abbiamo l'Ultra, un modello superiore che rispetto ai terminali standard, tra virgolette, ha alcune novità in più questo nello specifico è una fotocamera che con lo zoom ibrido arriva a 100x, quindi con uno zoom davvero elevato comunque ha un reparto fotografico di tutto rispetto anche a un sensore da 108 megapixel, visto però anche su Xiaomi Mi Note 10 andiamo ad analizzare pro e contro di questo telefono, chiaramente dopo la sigla Partiamo chiaramente dal display, uno dei fiori all'occhiello di questo smartphone è il più grande di fatto disponibile è uno smartphone di serie Galaxy, è un 6,9 pollici, quindi più grande anche del Galaxy Note 10 Plus da cui eredita il form factor perché a differenza della serie S10, sugli S20 abbiamo il foro della fotocamera frontale e poi il resto è praticamente tutto schermo, in formato 29, la capsula auricolare è perfettamente nascosta, tra virgolette e anche in fase di chiamata non si hanno problemi di alcun tipo è un display dynamic camole, dal top come sempre per quanto riguarda riproduzione dei colori, risparmio energetico con la modalità notte e anche visualizzazione di contenuti multimediali, compatibili anche con lo standard HDR10 Plus possiamo guardarci le serie, possiamo guardarci i video su YouTube, possiamo apprezzare al meglio tutti i contenuti che ci sono sopra assieme anche ad un comparto audio di primo livello con due casse, quindi stereo che permettono di avere un'ottima sensazione di immersione ha una risoluzione Quad HD estesa, quindi 3200x1440 pixel che però non possono essere sfruttati al top perché è anche presente la frequenza di aggiornamento, quindi refresh rate a 120 Hz che per chi non lo sapesse permette di avere una sensazione di fluidità nettamente superiore rispetto ai pannelli più classici per sfruttare questa funzionalità ho dovuto ridurre la risoluzione e impostarla sul Full HD esteso chi mi segue sa che uso sempre gli smartphone al top della risoluzione, al top delle proprie possibilità per anche misurare l'autonomia, la risposta del telefono in situazioni di stress e quindi quando viene messo sotto torchio in questo caso ho dovuto chiaramente settare la risoluzione al Full HD esteso e non ho notato particolari differenze nell'utilizzo delle applicazioni quindi per quanto riguarda il Galaxy S20 Ultra il consiglio è di metterlo a 120 Hz per sfruttare al meglio questa sensazione di fluidità che comunque vi faccio vedere con delle clip dedicate sembra di avere uno smartphone più veloce di fatto però bisognerà rinunciare chiaramente alla risoluzione questo è un Neo dal mio punto di vista però viene anche incontro alle necessità di autonomia e consumo perché a bordo abbiamo una batteria da 5000 mAh che comunque permette di arrivare a fine giornata ma da un peso massimo tra virgolette di questo tipo ci si aspetterebbe anche di andare oltre la giornata di utilizzo ma impostando il telefono appunto con i 120 Hz di refresh rate utilizzandolo comunque normalmente teniamo anche conto che non ho fatto prove in 5G riusciamo comunque ad arrivare alla giornata classica di utilizzo se vediamo contenuti multimediali, se facciamo videochiamate soprattutto in questo periodo appunto riusciremo a consumare buona parte della batteria però l'autonomia da questo punto di vista c'è quindi non avremo necessità di caricarlo come sta succedendo a molti comunque più volte nella stessa giornata riusciremo comunque ad arrivare fino a sera per quanto riguarda l'autonomia mi collego al discorso del chipset perché a bordo abbiamo un Exynos 990 7nm di processo produttivo, perfezionato chiaramente ma è presente anche la versione Snapdragon chi mi ha seguito nella recensione del Galaxy Fold che vi lascio nelle schede ha visto che il Galaxy Fold con processore Snapdragon paradossalmente aveva un consumo più contenuto, più ottimizzato la soluzione proprietaria di Samsung permette comunque di arrivare fino a sera ma non ci garantisce prestazioni eccezionali non si è tanti si è dati un telefono che comunque ha un costo importante ma è già disponibile, link in descrizione comunque con degli sconti chipset come sempre al top della categoria con processore octa-core suddiviso in varie sezioni a seconda del carico di lavoro 12 GB RAM come ho detto nell'unboxing trovate nelle schede probabilmente anche più del necessario e memorie UFS 3.0 che permettono di avere una velocità di lettura e scrittura estremamente elevata e quindi non avere mai collo di bottiglia il telefono in diversi situazioni di utilizzo non ha mai avuto un attimo di internamento ovviamente non rallenterà nemmeno su lungo periodo perché abbiamo prestazioni al top su questo ovviamente sui top di gamma Samsung c'è sempre poco da dire il focus secondo me deve essere fatto sulla fotocamera perché ovviamente in questo caso è il plus aggiuntivo che troviamo nella versione Ultra andiamo ad approfondirla in fase diretta di utilizzo approfondiamo il lato fotocamera che è uno dei punti cardine di questo S20 Ultra e come sempre nella schermata principale dell'applicazione troviamo la camera ultra wide che in questo caso è una 12 megapixel a 13 mm di distanza focale e quella standard è da ben 108 megapixel quindi fotografie che posso scattare così come li trovo e fare uno zoom davvero elevato senza avere alcuna perdita di qualità direttamente dalla galleria la camera tele che in questo caso diventa 5x ha una distanza focale di ben 103 mm quindi abbiamo a disposizione un sensore da 48 megapixel in questo caso quindi alta qualità e sicuramente una resa ottima anche da lontano la particolarità di questo smartphone però è la possibilità di scegliere 4x come vediamo 10x 30x quindi arrivare davvero lontano e ci esce anche il pop up apposito che ci fa vedere che punto dell'immagine standard stiamo guardando ingrandendo ma è possibile anche ad arrivare ad uno zoom di 100x in questo caso abbiamo una buona perdita di qualità però è come vi faccio vedere anche dalle foto nell'articolo in descrizione è chiaramente uno zoom che normalmente non riusciremo a raggiungere questo è possibile grazie sia all'utilizzo dell'ottica con una distanza focale come vi ho detto di 103 mm anche per questo la fotocamera è abbastanza spessa ma anche grazie allo zoom digitale è il sensore che ha una risoluzione come abbiamo detto molto elevata tre sensori differenti 12, 48 e 108 che sicuramente però danno possibilità di scelta e questo smartphone è uno dei pochi sul mercato che permette di avere una così variegata scelta tra i vari sensori in attesa delle risposte dei competitor tra le varie impostazioni troviamo Video Pro la Hyperlapse la modalità notte che comunque funziona abbastanza bene quando la luminosità è estremamente scarsa la modalità Pro per scegliere bene tutte le impostazioni di scatto e dobbiamo citare la Video Pro in questo momento non c'è una scena particolarmente concitata ma è possibile oltre alla possibilità come detto di fare video in 8K in solo 24 frame tra virgolette anche di selezionare la modalità video premere il pulsante di registrazione e far fare tutto al telefono dalla scena ripresa automaticamente verranno estratti i momenti concitati fotografie particolari a piena risoluzione e starà poi al creatore di contenuti comunque al fotografo scegliere qual è la parte migliore di tutta la ripresa completano la scheda tecnica i 128 GB di spazio su questo modello disponibile anche uno con memoria da mezzo terabyte come vi ho detto memoria WFS 3.0 e possiamo sempre andare ad espanderla perché il telefono è dual sim utilizzando uno slot delle sim per la micro SD in termini di connettività abbiamo il wifi AX il bluetooth 5.0 e lì siamo praticamente all'avanguardia l'ultima tecnologia disponibile sensore di impronte sotto lo schermo è ritratato a S10 Plus l'ho lanciato l'anno scorso che più o meno funziona allo stesso modo forse perfezionato ma rimane super scattante estremamente rapido nello sblocco e sempre con l'algoritmo di machine learning che impara in base a come mettete poi il dito col tempo sullo schermo per far leggere l'impronta e quindi man mano migliora le proprie prestazioni super comodo per quanto riguarda i pagamenti NFC quando utilizzo appunto lo smartphone per pagare tirando le somme su questo smartphone è un telefono che sicuramente consiglio ma dobbiamo valutare praticamente tutto già disponibile in offerta tra l'altro ve lo lascio in descrizione neanche il giorno di uscita costava il suo prezzo di listino praticamente e questo smartphone ha una serie di nuove tecnologie ha il 5G integrato uno schermo che consuma parecchio e che potrà magari essere ottimizzato successivamente tramite aggiornamenti software e comunque questo tipo di tra virgolette problematica lo vediamo anche nella sua conformazione perché il telefono è più doppio e pesa anche un pezzino in più rispetto agli altri a quelli a cui siamo normalmente abituati siamo sopra i 200 grammi la cosa si percepisce se prendo i due telefoni contemporaneamente in mano ma alla fine non rappresenta un ostacolo in fase di utilizzo o una problematica effettiva io preferisco lo schermo più grande le prestazioni migliori a costo magari di questo pizzico di ingombro in più che effettivamente si percepisce poco questo arriva anche per la fotocamera che ovviamente come abbiamo visto raggiunge un zoom davvero elevato e per poter anche avere un'ottica in grado di darvi un 4x senza avere nessuna valida digitale abbiamo bisogno di una istanza focale chiaramente un po' più grande è un acquisto che consiglio va benissimo anche per la produzione multimediale foto ottime video ancora di più come sempre siamo tra i migliori sul mercato non i primi in assoluto ci sono scule di pensiero però comunque abbiamo prestazioni sicuramente ottime è possibile anche fare appunto produzione video su youtube con uno smartphone di questo tipo quindi io vi esorto come sempre a farmi sapere che cosa ne pensate tramite i commenti qui sotto di lasciare un like al video se il video vi è piaciuto e vi è servito e iscrivetevi al canale per non perdervi le prossime recensioni uno dei prossimi video sarà appunto il confronto dell'S20 Ultra che in questo momento comunque ha un costo interessante rispetto al Galaxy Note 10 Plus che è l'altro smartphone che ho attualmente che come sapete è stato il mio smartphone principale fino all'arrivo appunto dell'S20 Ultra io come sempre vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video